Al parco ricevimenti per faone di Abriola che tra l'altro è presente anche qui alla fiera di Lago Pesole propongono eleganza ma soprattutto gentilezza da quello che abbiamo potuto notare, giusto? Beh al di là, fa parte del nostro mestiere, al di là della gentilezza abbiamo una struttura fantastica sono due sale ricevimenti a 1400 metri nel bosco di Abriola sui campi da sci della Sellate è un posto meraviglioso per eventi, per matrimoni, grande struttura da 30 anni gestita sempre dalla stessa proprietà dagli stessi cuochi e camerieri, abbiamo una grandissima clientela soprattutto per la distinzione dell'offerta ricettiva sotto all'offerta della qualità del cibo, grande servizio wedding, insomma matrimoni da sogno al parco ricevimenti per faone E poi proponete le cose più importanti della nostra cara Basilicata, come ha detto, cucina e natura? Assolutamente sì, la nostra cucina è basata su prodotti a chilometro zero, rivisitazione dei piatti uno stile più gourmet per quanto riguarda la parte eventi ma senza mai trascurare la qualità dell'olio extravergine della carne fresca, del cibo della nostra terra abbiamo veramente una struttura che propone una qualità di cibo con i nostri prodotti usando tutto personale del territorio, cibi del territorio, pasticceria interna un'offerta fantastica da verificare su matrimonio.com o su TripAdvisor cosa dicono le coppie ACM Premium System, un modo nuovo di cottura, ci dicevano qui una novità alla fiera di Lago Pessole, una nuova proposta? Sì, sì, è una nuova proposta, è un nuovo sistema di cottura AMC diciamo una largo vasta gamma di cotture da cottura a super veloce, a vapore con una base domotica dove possiamo programmare tempo e temperatura e fa tutto da solo anzi ancora di più attraverso un'applicazione con il telefonino possiamo comandarlo anche a distanza quindi veramente ultimissima generazione soprattutto per le nuove coppie ma non solo, anche per tutti i clienti che vogliono aggiornarsi quindi poco tempo, signora, la casa diventa sempre più tecnologica? certo, aiuta tantissimo sicuramente migliora i tempi in modo che abbiamo anche noi un po' più di tempo per altre attività, per i nipoti, sicuramente e il fatto di poter programmare modalità e tempi di cottura aiuta tantissimo cioè ci svincola da molti impegni pressanti oggettistica, regali, bombognere Maura Garripoli, wedding planner di Lavello alla fiera di Lago Pessole, cosa proponi? esattamente, buonasera, è la mia prima volta qui alla fiera di Lago Pessole proponiamo tutto ciò che riguarda eventi a 360 gradi e oltre a quello anche un negozio di articoli del regalo e bombognere a Lavello quindi se volete rendere unico il vostro giorno contattatemi cosa chiedono di più? guardi di tutto, dall'allestimento casa, tavolo sposa, allestimento della chiesa, un po' di tutto grazie, buon lavoro grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi